G7 a Ischia protesta a Napoli, corteo degli antagonisti in piazza per contestare il vertice dei ministri dell'interno. Isola blindata, 1800 uomini delle forze dell'ordine, molti negozi resteranno chiusi per paura di incidenti. Follia nella movida, dramma sfiorato, un residente a Chiaia si asperato dagli schiamazzi notturni ha lanciato un vaso sui clienti di un bar che hanno risposto, ora ti spariamo. La scena ripresa in un video, ho chiesto l'intervento di prefetto e procura. Vertenza ANM, si cerca un'intesa, per ora nessun accordo tra comune sindacati, oggi nuovo vertice, si punta sulla vendita dei biglietti a bordo dei bus a un costo maggiorato e su nuove visite mediche per il personale. Benevento a secco, scuole chiuse in anticipo, orari ridotti anche nell'università e negli uffici del capoluogo Sanita le prese con una drammatica crisi idrica, ma il sindaco Mastella assicura l'emergenza sarà superata nelle prossime ore. Porti Napoli accelera, Salerno si ferma, nello scaleo partenopeo il dragaggio è finalmente partito, a Salerno invece il Ministero dell'Ambiente ha rinviato l'ok allo scavo, risultato l'anno prossimo ci sarà un netto calo dei crocieristi. Scuola abbandonata in Riona e si ribella, ad Avellino sono anni che l'edificio che ospitava la media Dante Alighieri, versa nel più completo abbandono la rabbia dei residenti, intanto al comune arrivano gli ispettori del Ministero per i buchi del bilancio. Buongiorno e ben ritrovati con la nostra informazione, è il giorno del G7 a Ischia, in occasione dell'arrivo dei ministri dell'interno delle sette potenze mondiali si registra un massiccio di spiegamento di forze dell'ordine. Il corteo degli antagonisti partito da Napoli è appena arrivato sull'isola, ma vediamo il servizio di Rossella Strianese. Un'ora di perquisizione al porto di Napoli, poi 200 manifestanti autorizzati dalla questura sono partiti alla volta di Ischia per il corteo contro il G7, il summit delle grandi potenze mondiali su sicurezza e antiterrorismo che si conclude domani presso il Grand Hotel Punta Mollino. Ieri dal balcone principale di Palazzo Reale in piazza Plebiscito a Napoli i portavoce dei centri sociali e del neocomitato Napoli contro Minniti hanno esposto uno striscione con la scritta no G7 per un mondo senza confini. Stamane, prima di imbarcarsi, gli antagonisti hanno sfilato in città da piazza Municipio a calata porta di massa. Ora, dopo i controlli da parte delle forze dell'ordine, hanno raggiunto l'isola di Ischia dove terranno una manifestazione. Per questioni di sicurezza il corteo si svolgerà a quasi un chilometro dall'albergo in cui si trovano i ministri. Massiccio il dispiegamento di forze dell'ordine sull'isola, gli autoblindo della polizia, sono sbarcati dalla nave fauno della Caremar. L'isola è sorvegliata dall'alto da un paio di droni e da elicotteri. 1.800 agenti con controlli sofisticati da edifici strategici, anche con i cecchini. La giornata di oggi che apre il G7 viene considerata il test più delicato. Il timore di disordini e scontri è altissimo. Molti sono arrivati anche con imbarcazioni private e nonostante i controlli si teme che il numero di manifestanti sia più alto di quello previsto. Il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, che ha diffuso in questi giorni ben sei ordinanze con i divieti di sosta e circolazione, ha scritto ai cittadini invitandoli alla collaborazione. Un'opportunità infine anche per gli alberghi, quelli dell'area del summit. Sono tutti sold out. Una maxitruffa alla Coit è stata scoperta dalla polizia di Avellino. Gli uomini della sezione volanti guidati dal vicequestore Elio Iannuzzi, dopo aver raccolto la denuncia del titolare di un distributore di benzina della città, hanno avviato le indagini. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che un gruppo di giovani avellinesi aveva ingegnato un vero e proprio sistema per truffare il colosso del petrolio. In pratica, grazie alla complicità dei benzinai, venivano caricate le carte prepagate Kuwait senza registrare la transazione. Quel denaro caricato sulla carta spesso veniva restituito in contante. A un certo punto il distributore si è ritrovato con un ammanco di 75 mila euro ed è partita così la denuncia. Da marzo ad oggi sono state registrate decine e decine di truffe ai danni dei distributori Kuwait tra la Campania e il Lazio. E ora quattro persone avellinese sono state scoperte e denunciate. Movida di Chiaia sempre più violenta. L'altra notte è stata sfiorata la tragedia. Un residente infastidito dai rumori ha lanciato dal balcone un vaso di coccio. Sentiamo. La movida di Chiaia diventa sempre più pericolosa. Da un balcone di via a Cavallerizza un residente esasperato protesta per il fracasso che non lo lascia riposare e lancia un vaso di terracotta. Fortunatamente, ma solo per un puro caso, il vaso non prende nessuno e si frantuma al suolo. Si susseguono minacce e parole grosse. Dalle parole alle vie di fatto uno dei presenti chiede dov'è l'ingresso per raggiungere il responsabile del lancio. Il gesto del vaso è da condannare, dice Gennaro Esposito, presidente del comitato chiede pubblica, ma è espressione della disperazione della gente. Ormai si tratta di ordine pubblico e richiesto un intervento da parte del prefetto e del questore e dal 2015 non si apre un fascicolo in procura sulle nostre continue denunce e ricorreremo al Consiglio Superiore della Magistratura. Arrivare a un gesto del genere e a una risposta come quella fa capire che non si può andare avanti, ignorando il problema, fingendo di non vedere e parlando di città viva. Questa amministrazione ottiene solo l'effetto di proteggere i locali fuori legge. Gli alterchi hanno strascichi infiniti anche sui social. Un proprietario di locali accusa Gennaro Esposito. Lei è quanto di peggio ci sia in questa città, scrive, è un altro. Voi del comitato siete la rovina della città. E poi c'è il problema delle concessioni del suolo pubblico. Caso più ecclatante è quello nel tabaccaio di Piazzetta Rodinò. Dalla piazza non si può accedere più al suo negozio. Bisogna girare le pedane dei ristoranti. È rimasto qualche centimetro di accesso, un corridoietto. Concessioni al suolo pubblico a gogo anche per marciapiedi larghi solo un metro. Solo in via Bisignano e il suo prolungamento Vico-Satriano contano 21 locali con pedane, 60 in tutto il quadrilatero e di notte il quartiere scoppia. La vertenza dell'azienda del trasporto pubblico ANM di Napoli. Per ora nessun accordo tra comune e sindacati. Oggi in programma nel pomeriggio un nuovo vertice. Stando a un'ultima bozza di intesa si dovrebbe puntare sulla vendita dei biglietti a bordo dei bus a un costo maggiorato e su nuove visite mediche per il personale. Di queste misure si discuterà oggi cercando di trovare la quadra per chiudere dopo sei riunioni concluso con un nulla di fatto. Tra le novità ci sarà il personale volontario e retribuito con straordinari che potrà garantire le corse notturne di metro e funicolari nel weekend e chiusura dopo la mezzanotte in tre giorni infrasettimanali. Saranno i lavoratori più anziani disponibili a lavorare dietro pagamento dello straordinario ad avere la priorità. Ed ora parliamo della crisi idrica a Benevento. Il sindaco Clemente Mastella rassicura che entro poche ore la fornitura dell'acquedotto Torano Biferno sarà ripristinata dopo lo stop causato dalla rottura delle pompe in Molise. Questa mattina un riunione in comune per fare il punto della situazione. Alessandro Fallarino. La crisi idrica a Benevento sembra avere le ore contate, almeno si spera, ma stando alle dichiarazioni del sindaco Mastella il problema sarà risolto entro domani. Al Molise rassicurano che a breve saranno ripristinate le pompe che spingono l'acqua del capologo Sannita. Abbiamo una lettera che mi ha inviato il vicepresidente Bonavitacolo che testimonia quello che sto dicendo, quindi script a Manent e noi ci muoveremo in questa direzione. Loro aumenteranno la portata in maniera tale che nei prossimi giorni, secondo loro a partita domani, spero che sia così evidentemente, quindi relata Reifero, si rientra in la normalità. Dalla riunione di questa mattina, alla quale hanno partecipato anche i vertici di Gesese, è emerso però che la Regione darà il via libera per il completamento degli impianti per prelevare l'acqua dei pozzi di Solopaca e in seguito anche da quelli di San Salvatore dell'Esino. Noi dovremo utilizzare due fonti per cui partirà tra poco una mia lettera di richiesta a riguardo e accanto a questa lettera mia alla Regione e all'ente idrico campano, sarà correlata e corredata anche da una lettera che farà ugualmente alla Gesese in cui chiederemo la utilizzazione immediata del pozzo di Solopaca. Con la nostra richiesta che noi faremo, entro un mese, noi, Benevento, dovremmo avere più problemi. I carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore con il supporto delle compagnie di Castellammare di Stabia e Torre, annunziata, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Salerno nei confronti di quattro indagati residenti ad Angri, Pompei e Sant'Antonio Abate. Per tutti l'accusa è di concorso in estorsione con l'aggravante del metodo mafioso. Due degli indagati si trovano in carcere e gli altri due ai domiciliari. Le indagini sono partite nel febbraio 2016 dopo l'esplosione di un ordigno a Sant'Egidio del Monte Albino, in un cantiere dove erano in corso i lavori di realizzazione di un centro medico polispecialistico. E c'è un caso di legionellosi a Villamaina, in provincia di Avellino, sono state chiuse le terme. Il provvedimento è giunto su richiesta del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Avellino che ha ottenuto dal sindaco di Villamaina la sospensione cautelativa dell'attività termale. Successivamente alla richiesta di sospensione è giunta all'ASL la segnalazione di un terzo caso accertato, oltre alla notizia di alcuni casi sospetti per i quali sono in corso ulteriori verifiche. La sorveglianza sanitaria, precisa l'ASL di Avellino, disposta su gruppi di persone che hanno frequentato le terme, continua, mentre l'ARPAC provvederà ai prelievi presso le terme per l'accertamento dei punti responsabili dell'eventuale diffusione dell'infezione. A Napoli il dragaggio è finalmente partito. A Salerno invece il Ministero dell'Ambiente ha rinviato l'ok allo scavo. Il risultato? All'anno prossimo ci sarà un netto calo dei crocieristi sul dragaggio. La portualità campana viaggia a due velocità. Giovanni Battista Lanzilli. A Napoli sono partiti i lavori per il dragaggio, per la soddisfazione del Ministro alle Infrastrutture, Graziano Del Rio, che ieri ha tenuto a battesimo il cantiere. Entro 14 mesi dunque lo scalo partenopeo potrà accogliere i giganti della navigazione sia crocieristica che del trasporto container. Un porto che cresce e che sta facendo bene la benedizione del Ministro. Dopo anni di commissariamento, ritardi e mobilismo dunque lo scalo partenopeo si avvia a riacquistare quel ruolo di primo piano che gli spetta. Ma l'altro lato della medaglia per quanto riguarda la portualità campana è dato dal porto di Salerno. Più piccolo rispetto al gigante partenopeo ma che negli anni ha saputo portare a casa percentuali di crescita importanti che però si fermano di fronte al ritardo nei lavori per il dragaggio dei fondali. Anche qui come a Napoli bisogna lavorare per consentire l'ingresso in rada di imbarcazioni più grandi sia per il turismo che per il commercio. Ma il cantiere stenta a decollare. Il Ministero dell'Ambiente ha chiesto una nuova caratterizzazione dei fondali prima di dare l'ok all'escavo. Tradotto altri mesi prima di poter dare il via agli interventi. Ed i risultati si vedono. Le previsioni per il 2018 consegnano un quadro a tinte fosche per il porto di Salerno per il quale è stimato un calo di circa 18.000 croceristi rispetto all'anno scorso passando da 79.000 a circa 60.000. E proprio quello turistico è un comparto fondamentale non solo per Salerno ma per tutta la Campania come ha ribadito ieri il governatore De Luca in occasione dell'incontro con Del Rio. Abbiamo una bella realtà anche per quanto riguarda i contenuti. Se noi abbiamo 500.000 tonnellate a Napoli più o meno la stessa cifra a Salerno possiamo raddoppiare. Dobbiamo anche valorizzare una nostra vocazione che è quella di porto turistico, porto croceristico. Banda del buco in azione lungo corso Garibaldi questa notte a Benevento. Due persone di Napoli sono state arrestate da polizie e carabinieri con l'accusa di tentato furto ai danni di una rivendita di tabacchi ed edicola. Secondo una prima ricostruzione i due, entrambi cinquantenni, si sono introdotti nel cantiere del museo di Piazza Duomo ed hanno cercato di forare il muro dell'attività commerciale. Un'operazione rumorosa che ha allertato il proprietario e i residenti che hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati i poliziotti della volante e i carabinieri del nucleo operativo e il radiomobile che sono riusciti a bloccare i due, sequestrando un trapano artigianale, un passamontagna ed altri arnesi per lo scasso. Andiamo ad Avellino. La scuola media di Via Piave è chiusa da cinque anni. Questa mattina sono comparsi degli striscioni davanti ai cancelli che dicono ridateci la nostra scuola. La scuola Dante Alighieri è chiusa da ormai cinque anni. Ancora una volta i residenti della zona lanciano un appello e chiedono la immediata riapertura. Da un po' di giorni davanti al cancello della scuola di Via Piave è comparso uno striscione con una scritta. Ora basta, ridateci la nostra scuola. Ormai è diventata una zona morta, una zona che ormai non c'è più passaggio, soprattutto per gli alunni. Non c'è più provimento, quella vitalità diciamo. Mi dispiace proprio che è la fine di questa scuola, mi dispiace, perché è come se finisse una comunità, un quartiere. Quindi facevo l'elementare qui e lo smerdi è qui. Io ho una grande nostalgia di questa scuola perché ho fatto le scuole medie e me ne sono andata in pensione come insegnante da questa scuola. Qui è diventata un po' isolata, un po' abbandonata a se stessa, quindi il Comune sarebbe il caso che cercasse di prendere in considerazione magari l'idea di accelerare un po' per quanto riguarda le procedure di avvio dei lavori. Se è una struttura inagibile, non deve essere neanche agibile per l'archivio, perché se la struttura cade si perde l'archivio dello Stato. Questo era un patrimonio, un gioello e poi il valore che c'era, avendo una scuola del genere. Quando passo di qua alcune volte mi viene, non so, di farmi la croce. Qualcuno spera nell'aria apertura? Me lo auguro, me lo auguro, per far rinascere questo quartiere, magari anche la città. Alta capacità Napoli-Bari, la Goldiretti-Benevento si schiera a tutela delle aree d'occa finché vengano evitate dal percorso della tratta ferroviaria. L'invito è a intensificare prima della cantierizzazione la concertazione con i territori. interviene Mino Mortaruolo, vicepresidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania. Alta capacità Napoli-Bari, Goldiretti-Benevento chiede alla Regione di tutelare le aree d'occa, ovvero le eccellenze territoriali che hanno consentito a numerosissime aziende agricole di ottenere anche finanziamenti europei. Per l'avvio dei cantieri le tappe burocratiche sono state contingentate. Riti ferroviarie italiane potrebbe tentare di semplificare se la fase di concertazione subisse rallentamenti o presentasse troppi ostacoli. Di qui l'appello, immediatamente recepito dal Beneventano Mino Mortaruolo, consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Agricoltura presso la Regione Campania. Abbiamo riscontrato, abbiamo visto già le particelle sulle quali chiaramente insiste l'opera, su alcune delle quali insistono dei vincoli dovuti a finanziamenti sul PSR, quindi con l'autorità di gestione e con RFI si è cercato di risolvere anche dal punto di vista tecnico questo tipo di problemi perché è chiaro che chi non ha alcuna colpa, tra virgolette in questo caso è proprio l'impresa agricola, l'azienda agricola. È giusto concertare, credo che a breve cominceremo a farlo anche in provincia di Benevento per i comuni e per i tratti interessati e quindi non vedo grossi problemi all'orizzonte, credo che concertazione giusta, doverosa, rapida se possibile e poi cerchiamo soprattutto di valorizzare quanto più possiamo il nostro territorio da un'opera del genere che è impattante ma che può avere dei ritorni, dei ristori economici di assoluto interesse. L'importante è saperli sfruttare bene, leggere bene e soprattutto realizzare opere che siano aderenti alle vocazioni produttive dei territori e che possano implementare le stesse. C'è un'indagine del Ministero dell'Economia e delle Finanze sui bilanci del Comune di Avellino. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha inviato due ispettori a cui è stato affidato il compito di effettuare delle verifiche contabili presso Palazzo di Città. I due funzionari hanno cominciato a prendere visione dei documenti legati all'area finanziaria del Comune, ma la verifica riguarderà anche altri settori come quello del personale. L'amministrazione comunale fa sapere che si tratterebbe di una verifica di routine che il Ministero effettua continuamente presso gli enti pubblici. Di diverso avviso invece il leader dell'opposizione Dino Preziosi, secondo il quale l'indagine del Ministero scaturisce dalle sue continue denunce sulle irregolarità nei bilanci del Comune. Forza Italia porta il bando delle luci d'artista all'autorità di anticorruzione di Raffaele Cantone. Per gli azzurri ci sono troppe zone d'ombra nella procedura di affidamento, bordate anche alle associazioni di categoria. Sono servili al potere, ma non tutelano i commercianti di Salerno. Vediamo. Il caso lucid'artista finisce all'attenzione dell'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione guidata da Raffaele Cantone. L'esposto è stato presentato da Forza Italia attraverso il consigliere Roberto Celano. Tanti i dubbi dell'esponente azzurro che questa mattina in una conferenza stampa con i dirigenti salernitani Aniello Salzano e Vittoria Cocella ha sottolineato le tante zone grigie che secondo lui ruotano intorno alla vicenda. Abbiamo preparato un esposto per l'ANAC, quindi per il dottore Cantone e per il garante della concorrenza perché riteniamo fondate molti dei dubbi sollevati dalla società francese sulla trasparenza del bando e della gara posta in essere. Ma abbiamo anche fatto un appello ai francesi però che è quello di rinunciare alla sospensiva del 24 ottobre per chiedere di discutere al più presto nel merito per evitare di procurare un danno alla città. Detto questo poi noi abbiamo fatto una ricerca, abbiamo evidenziato altri vulnus in questa operazione. Guarda caso l'affidamento fatto con bando ha visto beneficiari gli stessi soggetti che erano invece beneficiari dell'affidamento diretto negli anni precedenti. Non solo nel mirino di Celano e Forza Italia, anche le associazioni di categoria che in questi giorni si sono scagliate contro i francesi di Blasciere Illumination senza contestare nulla al comune di Salerno. Noi vogliamo difendere la città ma vogliamo difendere anche i commercianti salernitani che non sono a nostro avviso correttamente difesi perché molto spesso i responsabili delle associazioni di categoria più che difendere i cittadini fanno a gara ad essere più servili al sistema cittadino. Ad Avellino dopo il caso Mancini resta vivo il problema della sicurezza nelle scuole, oggetto di un confronto tra docenti e studenti. Angelo Giuliani. Professori e studenti d'accordo, mai più il caos scuole vissuto l'anno scorso ad Avellino. I ragazzi dell'Amabile, dell'Imbriani e del Virgilio Marone si sono ritrovati per un confronto e il discorso si è subito spostato sul tema della sicurezza. L'anno scorso la chiusura di molte scuole inagibili ha dato il via a un vero e proprio puzzle. Quest'anno identici problemi vissuti dall'Imbriani e un liceo storico, il Mancini, attenzionato dalla procura. La maggior parte delle strutture di Avellino, private e pubbliche, sotto il profilo della sicurezza non è che siano proprio adeguate a norma di legge, lo sappiamo, insomma è notorio. Credo che è necessario intervenire urgentemente per creare invece un campus scolastico. Non possiamo negare che ci sono stati problemi tra noi alunni e all'interno della scuola. Adesso la mia scuola sta in via Morelli e Silvati, un plesso nuovo e ci troviamo benissimo, noi ragazzi ci troviamo più che bene. La mia scuola è suddivisa in due plessi ed entrambi i plessi, almeno da quanto ci è stato detto, sono sicuri e agibili. Però comunque ho vissuto insieme ai miei colleghi questo problema e posso garantire che non è bello. Penso che la situazione in cui si siano trovate tutte le scuole della provincia sia stato un fulminaccio al sereno, soprattutto per quanto riguarda la nostra scuola che penso sia la più grande della provincia. è comunque una situazione di disagio a cui stiamo fronteggiando con riduzione degli orari, un orario diverso che sarà poi di sei ore spalmato su cinque giorni, insomma è abbastanza complicato. Dopo la nomina il consigliere salernitano Ermanno Guerra annuncia a 8 Channel la sfida che attende la fondazione Ravello da qui ai prossimi anni. Intanto il Teatro Verdi mette in scena la norma di Bellini. Valorizzare al meglio un evento dalla indiscussa vocazione internazionale nel quale la regione investe tanto per consegnare non solo un'offerta artistica di livello ma anche una gestione improntata all'efficienza. Ermanno Guerra, consigliere comunale di Salerno, annuncia ad 8 Channel il suo programma dopo la recente nomina che lo vedrà alla guida della prestigiosa fondazione Ravello che organizza l'omonimo festival. La fondazione Ravello è il festival ad essa collegato, è un'iniziativa di spessore internazionale riconosciuto in tutto il mondo, è un biglietto da visita per il paese e per la Campania, dunque di qui una grande responsabilità e probabilmente il lavoro che va fatto è sempre di maggiore diffusione e qualificazione naturalmente ma questo spetta ai direttori artistici e la qualità della proposta ma spetta però a chi ha la responsabilità organizzativa definire una cornice di comunicazione internazionale adeguata che renda merito al grande lavoro e al grande impegno economico della regione in questo settore. Le parole di guerra arrivano a margine della presentazione della norma di Bellini, ennesimo capolavoro che testimonia lo sforzo culturale messo in campo dal Teatro Cittadino di Salerno. Questa è un'opera assolutamente straordinaria, di straordinaria contemporaneità in cui si parla e si tratta di tutta una serie di temi assolutamente riconoscibili e unica anche nel contesto delle composizioni di Bellini, una concatenazione di piani narrativi straordinariamente riconoscibili dal pubblico contemporaneo. È tutto con il nostro Tg, ora vi lascio alle previsioni meteo e a seguire il Tg Sport. Grazie. Grazie. Grazie.